E buonasera, primo dei tre giorni della merla o della merda, Giuseppe Borracino, Sarzappalà, non preannuncio il tema perché ormai diciamo è un tema notorio Ce la farò, io ce la farò Secondo me un gruppo di suorosceline scampanate probabilmente avranno fatto di meglio Lubrano, Leosini, Mengacci Davide, Nonna Belarda Come vedete, come vedete i voti sono molto frammentati Io non ho più parole ma dobbiamo ancora venire proprio al picco massimo Guarda come dondolo, guarda come dondolo con il fisico Deve anche essere intelligente, deve capire che bisogna mettersi da parte Avresti votato per Enrico Papi o per Amanda Lear? Guarda voto a scheda bianca e poi ci rifenso, la quarta votazione forse Magalli, onder, onder, onder Il buon Big Luciano onder Fabrizio io veramente sono scompato dei due voti a Enrico Grin Secondo me li ha pagati Ricci e il capitolo in persona Questo programma sta prendendo una fila troppo seria, torniamo in cacciata Mi sa che a questo punto ci tocca l'impiaggio ma anche Jazz Io ti consiglio di andare a vedere l'esibizione di questa cantante cipriota Ivi Adamu su Youtube per capire il momento preciso in cui io mi sono innamorato di questa Gentil donzella cipriota Di Salvati Intimi Testi La cara floppa Dirige il maestro Luciano Traversa Canta Complesso Anonimo Che Dio ce la mandi buona Mi scuso Veramente mi scuso con tutti Non avete idea io l'ho visto il film Melissa P E credo che sia la peggior cagata dopo Troppo Belli È stata la nostra ennesima prova del teatro dell'assurdo Noi siamo i portatori di questo genere Grazie e buonanotte alla prossima settimana